Allora, La bella confusione, per chi non lo sapesse, è un nuovo libro di Francesco Piccolo pubblicato da Einaudi ed è la storia di due grandi figli. La storia di due grandi figli che sono stati girati più o meno nello stesso periodo, anzi proprio nello stesso periodo, nel 1963, e si tratta di Il Gatto Barco, di Luchino Visconti e di Otto e Mezzo, di Federico Fermini. In copertina del libro c'è Claudia Cardinale, per il Claudia Cardinale è il link tra questi due film, adesso non ce lo racconta Francesco naturalmente, nel senso che c'è in entrambi i film, e che ha dovuto dividersi tra i due set anche con aspetti buffi e rocambornischi. È un libro che racconta l'Italia di quegli anni, racconta il cinema di quegli anni, racconta due grandi artisti che in quel momento erano ferocemente rivali, una rivalità che andava indietro quasi un decennio che poi in qualche modo si sono riconciliati negli anni successivi, fino a fingere una certa amicizia, direttore, no? Fingere una tale amicizia che quegli inizia di scontro a fine dello straniero che è il tuo più benfitto, che dire... Non è un insulto, in realtà. Che dire a biscotti che è il tuo straniero, che è il tuo benfitto che aveva fatto, voleva dire conservare quella persiglia di Gianni Vati. Sì, secondo me sì, poi conoscendo Saline sono sicuramente molto simili. Comunque, come nasce l'idea e anche qui raccontaci il lavoro di documentazione, perché al di là del fatto che Tattopardo e Dottor Mezzo sono due film meravigliosi che possiamo rivedere, che magari ci informiamo bene, tu hai fatto un lavoro di scavo anche nella cronaca di quel periodo, molto imponente, lo sarei. Sì, ho lavorato parecchi anni alla documentazione perché appunto la documentazione non riguardava i film, riguardava tutto il mondo che c'era intorno. Io cercavo di raccontare come quei film sono stati fatti, in che modo i biscotti infermini erano arrivati, in che modo si viveva in quel periodo di cinema e tutto il resto. e quindi sono andato anche a guardare riviste femminili, giornali dell'epoca quotidiane, riviste di cinema e tutto. E questa cosa qua ha permesso di raccontare questa storia come se fosse un narratore di cronaca di quel periodo là, di quel momento. Tutta questa storia è nata al Festival di San Bruno del 2014. io facevo l'autore del festival, uno dei festival di Fazio, e invitavo a Paule Cardinale. Quando c'era qualche ospite di cinema, me ne occupavo io per, diciamo, contiguità, per vicinanza, e quindi io sono stato a Paule Cardinale, altro minuto della mia vita, e dovevamo aspettare le proprie successive, lei mi ha detto fumiamoci una sigaretta nel foyer, perché non voleva uscire, non si poteva fumare, però credo che nel 2014 è andato in prescrizione questo reato, direi, quindi lo posso dire. Poi, a Paule Cardinale glielo perdoni a parte. E lei mi ha cominciato a raccontare di questa storia, cioè del fatto che in quel periodo girava sia il piatto parte sotto e mezzo, e passava da un centro all'altro, da Palermo, a Roma, o a Pianciano, o all'Eor, e soprattutto che Felini non voleva che mettessi la parrucca e la voleva, ma stava chiara, e Viscotti non voleva che mettessi la parrucca e la voleva nero corpina. Qui lei si è cambiato il colore dei capelli tutte le volte. La parrucchiera di Gattopardo ha smesso di fare la parrucchiera dopo Gattopardo, perché è pazzita per questa cosa. Molte persone togono questi due film hanno smesso di fare il loro lavoro tra l'altro. Basta. Esatto. Allora, è ovvio che dire che a Pianciano e Gattopardo sono tutti due del 63, è una cosa che forse si sa, uno se la ricorda un po', ma questa perfetta coincidenza da questi due film sono cominciati tutti due a maggio, sono tutti due ottobre del 62 delle riprese, di montaggio, usciti insieme, eccetera, mi ha fatto pensare che andava raccontando. Partendo da Claudio Cardinale e poi però, insomma, ho quasi subito scoperto che Fellini e Biscotti non si parlavano da otto anni, da più di otto anni, perché era successo un episodio incredibile alla posta del cinema di Venezia nel 54, dove Senso e la strada erano tutti più in concorso e Fellini e Biscotti hanno fatto gran parte dei loro film in concomitanza, questo in maniera perfetta che ha trovato l'otto e mezzo, ma Senso e la strada sono andati a Venezia insieme, Senso non ha vinto nessun premio per una specie di proprio vera corruzione da parte del governo per non far vincere Senso perché Biscotti era del PC, eccetera, la strada vince Leone d'Argento e in quel momento la truppo di Biscotti che contestava il verdetto e la truppo di Fellini che difendeva il verdetto si sono picchiate nella sala grande della posta del cinema di Venezia e da quel momento Biscotti e Fellini non ci sono partati la truppo di Biscotti era capricciata da Franco e Fellini e la truppo di Fellini e la truppo di Fellini e da Moraldo Rossi che è il suo introdotto grazie